ragazzi buongiorno siamo con ale che ci spiega il significato di queste di queste statue che stanno qua su in alto le vedete di queste qua ma che cosa sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 poi ce ne so una destra una di là allora ragazzi spiegaci perché sono 9 sono le 9 perché sono 9 queste cose cosa rappresentano non è un caso rappresentano le 9 muse e le muse cosa sono no le muse ispiratrici dell'arte le 9 arti la danza la pittura la scultura la recitazione e poi ci sarà qualche altra sono 9 in tutto 9 le 9 le 9 cose qualcuno è maschio qualcuno è femmina vedi come fai riconosci quella che sono femmina e le hanno lasciate due perché non lo sapevano questo è lo youtuber e allora quell'altra che è di là che c'è twitter ma adesso le arti sono diventate 11 quella di twittare e quella di fare video youtuber e quali sono le quali sono le le due le due arti tu in che cosa in che cosa sei forte sai dipingere sai recitare sai cantare sai ballare sai fare i video youtuber sai twittare ha ballato un bambino si fa tutto e cos'è che non sai fare oh ieri c'era un compito dice quale parola nuova scoperto tu che gli hai risposto in un vero perché perché le so tutte o bello lo sai che possiamo pure fa un canale e lo chiamiamo le so tutte è gaiardo è perché io sono nato sapu perché sapevo tu sapute saputello saputello non mi piace perché è uno che saputello che se crede da sapere però non sa invece tu diglielo io so tutto perché l'ho già visto l'ho già visto nella pancetta nella pancetta e nelle altre vite pure di quante altre vite hai fatto eh le vite nello scienziato ah in passato è stato scienziato e poi sei stato pure che altro eh tutto giusto così ah hai fatto pure il bimbo minchia nelle vite passate hai fatto anche il bimbo minchia nelle vite passate perché avete visto perché tutti dicono io nell'altra vita facevo la strega io nell'altra vita facevo lo scienziato io nell'altra vita ero Leonardo da Vinci invece Alessandro ha l'onestà intellettuale di dire che anche nelle altre vite è ristato corre qua guardate quanto sono i carini i biscioletti quanti sono piccoli ma piccoletti madonna quanti sono piccolissimi va bene Alessandro vai ciao vai 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 ciao